dalla testata, contraddicendo con ciò i precisi impegni presi fino a qualche giorno fa e ripetutamente per ottimizzare le risorse. I giornalisti della TGS, per rispetto dei telespettatori, si sono impegnati tuttavia a garantire le loro prestazioni professionali in occasione dell'incontro Italia-Portogallo. L'assemblea della TGS è tuttora aperta e il sindacato deciderà nelle prossime ore nuove azioni di protesta. E ora tuffiamoci dentro a questo straordinario ambiente dello stadio milanese di San Siro che attende con ansia, come tutti noi, l'evolversi di questa partita tra Italia e Portogallo che vale la fase finale dei mondiali americani del prossimo anno. È in pratica una specie di spareggio secco. L'Italia ha a sua disposizione due risultati su tre. Sarà sufficiente agli azzurri ottenere il pareggio o naturalmente la vittoria contro i portoghesi per assicurarsi la partecipazione. Il Portogallo deve invece vincere. Ed ecco le formazioni delle squadre. L'Italia, Di Sacchi, con Pagliuca, Benarrivo e Maldini, Stroppa, Costa Curta e Baresi, Donadoni, Dino Baggio, Casiraghi, Roberto Baggio e Signori. Cheirozzi, il tecnico portoghese, ha fatto serrata pretattica. Solo qualche attimo fa è stata comunicata la formazione ufficiale dei portoghesi che si discosta alquanto da quella prevista. Giocheranno per il Portogallo. Vittor Bahia, Joao Pinto e Jorge Costa. Veloso, Fernando Couto e Paolo Sousa. Vittor Panera, Rui Barros, Joao Pinto, Futre, Rui Costa. Ingresso delle squadre in campo accolte dall'ovazione degli 80.000 di San Siro. C'è naturalmente un clima di straordinaria attesa. 80.000 presenti allo stadio milanese in una serata piuttosto fresca. Vedete il capitano degli azzurri, Franco Baresi. Questo è l'arbitro centrale, Wojcik della Polonia, che si avvale della collaborazione dei signori Milewski e Slabic, pure polacchi, in qualità di guardaline. Ora attendiamo l'esecuzione degli inni nazionali che sarà fatta dalla banda dei bersaglieri Compagnia Atleti. Si schierano a centrocampo i bersaglieri. Inno nazionale portoghese. direispecati all'ep超ante. Nopersonale. Nopersonale. Za했어! Io stai! Grazie a tutti. E' lo spirito di gruppo, avete visto i giocatori portoghesi che si sono stretti la mano durante l'esecuzione dell'inno nazionale, ora i bersaglieri, inno di Mameli. E' un particolare curioso. Hanno fatto parte della compagnia dei bersaglieri, parecchi dei giocatori azzurri che giocano stasera, Maldini, Costa Curta, Iduevaggio, Casiraghi e poi in panchina, Marchegiani, Panucci, Albertini, Mancini e Simone. Tutti hanno fatto parte anche della nazionale militare. Ed ecco i due capitani con l'arbitro per le formalità di rito. Situazione. L'Italia, come avete visto dalla sovrimpressione che vi è stata presentata in apertura di telecronaca, ha 14 punti con una differenza reti di 14, più 14, 21 reti all'attivo, 7 al passivo. Anche il Portogallo ha 14 punti con più 14 di differenza reti ma ha segnato di meno, 18 gol. Ne ha subiti solo 4, 3 dei quali contro l'Italia nella gara d'andata. La Svizzera che in contemporanea gioca a Zurigo contro l'Estonia ha 13 punti ma battendo gli Estoni con 2 gol di vantaggio. Avrebbe la matematica, sicurezza, quale che sia il risultato di San Siro di andare negli Stati Uniti. Ed ecco gli azzurri che si schierano. Inutile dire che affidiamo tutte le nostre speranze e il nostro incoraggiamento agli uomini di Sacchi. C'è una straordinaria attesa e forse questa è la partita più importante che affronta la nazionale italiana da quando alla sua guida c'è Arrigo Sacchi. Vedete intanto le moltissime personalità presenti in tribuna. Avete visto Boniperti, c'è naturalmente il presidente della federazione italiana al gioco calcio, Matarrese, assieme al vice Michele Pierro. I vertici della IP, ecco ancora Boniperti, vedete. Ed ecco Arrigo Sacchi, l'espressione tesa. Partita che l'Italia deve giocare al meglio delle proprie possibilità. Ci siamo naturalmente un po' complicati l'esistenza cedendo 3 punti su 4 alla Svizzera. Poi ci eravamo rimessi in corsa ottimamente andando a vincere in Portogallo, ma questa è la gara decisiva. Tutto è pronto, consulta a vista i propri collaboratori, l'arbitro Wojcik. Fischio d'avvio, è cominciata Italia-Portogallo, forza azzurri. Rui Costa in possesso di palla per il Portogallo. Il passaggio è sull'anziano veloce, sul quale fa contrasto stroppa. E Benarrivo ora che si impatrisce il pallone, volata di Benarrivo, fallo di Rui Costa. Primo minuto di gioco a San Siro tra Italia e Portogallo. Non dobbiamo mai dimenticare che si tratta di una semplice partita di calcio e come tale va interpretata e vissuta. Tuttavia l'emozione è grande e la posta in palio è di quelle che contano davvero. Benarrivo, Dino Baggio. Con il destro a fiondare in profondità, stacca Fernando Couto, il pallone però controllato da Joao Pinto. E c'è ancora un calcio di punizione per il fallo su signori da parte di Joao Pinto. Vibrante avvio di partita degli azzurri. Casiraghi va a piazzarsi nei pressi del portiere Vittor Bahia. Mentre Signori, che scodellerà centro area il cross, parte il tiro di Signori ribattuto da Rui Barros. Poi la palla è per Donadoni. Futre gliela ruba. Futre naturalmente è uno dei giocatori più attesi. Donadoni al recupero. Maldini trova un barco. Contatto ancora con Rui Barros. Azione regolare di Rui Barros. Joao Pinto ora. Paolo Sousa, l'organizzatore di gioco. Ancora Joao Pinto. Il più vecchio dei due, Joao Pinto. L'altro ha il numero nove. Recuperano il pallone ancora gli azzurri. Roberto Baggio. Signori. Ancora Baggio. Fermato. Due minuti di gioco. Zero a zero. Roberto Baggio. Su di lui in copertura Vittor Panera. Il tocco centrale per Donadoni. In profondità il colpo di testa di Joao Pinto. Il controllo di Rui Costa. Si distende ora in avanti il Portogallo. Un dribbling su Donadoni. Sempre Rui Costa in possesso di palla. Cambia gioco da quest'altra parte per Velosso. 36 anni. Il tocco centrale. Poi all'indietro Paolo Sousa. In profondità, attenzione. Copre la retroguardia. Dino Baggio. Signori. Si incrocia con Donadoni. Va Donadoni. Converge. L'impostazione. Su Stroppa. È largo. Benarrivo. Parte il cross di Stroppa. Il colpo di testa è stato di Fernando Couto. Con Benarrivo pronto a effettuare la rimessa laterale. Lascio poi l'incarico a Stroppa. Benarrivo. Palla sul sinistro. Roberto Baggio in area. La chiusura è di Velosso. La palla messa fuori ma proprio sul piede di Stroppa che può operare il cross. Effettuato. Stacca Casiraghi. Battuto in acrobazione da Fernando Couto. Poi Maldini. Joao Pinto. Ancora Maldini. Ottimamente. Grande giocata di Maldini. Intervento irregolare di Paolo Sousa. La squadra di Sacchi naturalmente non adotta alcun atteggiamento prudenziale. Come avete visto fin dalle prime battute gli azzurri hanno assunto l'iniziativa. Costringendo anche ad alcuni interventi irregolari i nostri avversari. Verso Signori il suggerimento. La palla carambola nella zona in cui opera Dino Baggio. Opportuno il tocco per Maldini. Tutto spostato a destra. Cerca spazio Maldini. Su di lui fa Paolo Sousa. Ed è ancora calcio di punizione. Paolo Sousa facendo all'arbitro di essere intervenuto sul pallone. Ma il gioco quantomeno d'ostruzione era irregolare. Punizione. 4 minuti e mezzo. 0-0 a San Siro. Italia-Portogallo. Gara spareggio per andare in America. Negli azzurri comunque basta anche il risultato di parità. Signori e Roberto Baggio nei pressi del pallone. Il saldatore in area tra i quali Dino Baggio, Maldini, Casiraghi. Il crosti, signori. Lo stacco di Maldini. Poi Dino Baggio è su di lui. Vittor Baia è in presa. Maldini che rientra. Notevole lo sforzo della Rai con molte telecamere. Ecco Donadoni che riconquista il pallone a centro campo. Il suggerimento in profondità per Casiraghi. Il tocco per Roberto Baggio. Ma Baggio è ancora messo giù. Calcio di punizione. E' assai falloso il portoghese. Vedete i volti tesi che denotano la massima concentrazione dei giocatori in campo. Portogallo che finora è stato costretto sulla difensiva dal veemente avvio degli azzurri. Gara preparata con la consueta, meticolosa precisione da parte di Arrigo Sacchi. che ha avuto a disposizione per alcuni giorni i giocatori li ha attivati anche mentalmente per inserirle appena nei suoi schemi e soprattutto per trovare la giusta concentrazione. Potrebbe battere Roberto Baggio ma anche signori. Donadoni sul pallone. Finta, signori, alto. Sembrava che Kairos fosse intenzionato a schierare la formazione a 5 con Pace come libero. Il giovane Pace invece è uno dei tanti elementi con i quali Kairos ha vinto due titoli mondiali a livello giovanile e in panchina. E' Paolo Sousa ora che imposta. Chiamando in causa Joao Pinto. Ancora Paolo Sousa. Velozzo. Si è affidato agli anziani. Kairos, Ivari, Velozzo, Joao Pinto, Vittor Panera. Giocatore di molta esperienza. Ecco Velozzo. Il lancio in profondità. Il bel colpo di testa di Costa Curta. Il tocco di Roberto Baggio. Il lancio di Donadoni. Ma c'è Joao Pinto. che lascia sfilare in fallo laterale. La rimessa è a favore di Vittor Panera. Da questi a Paolo Sousa. Il tocco ancora per Panera. Il lancio in profondità. Il colpo di testa di Baresi. Dino Baggio. Largo a cercare signori. C'è anche Donadoni sulla sinistra. Eccolo servito. Va Donadoni. Convergine al centro. Attaccato ancora irregolarmente. C'è calcio di punizione. Moltissimi falli. Con ammunizione ora. C'è ammunizione. Combinata a Paolo Sousa. Al settimo del primo tempo. Prima ammunizione della giornata. Per proteste a Paolo Sousa. Roberto Baggio. Ottimo controllo. Il cross da quest'altra parte. Il colpo di testa di Casiraghi. Dino Baggio. Un dribbling. Poi viene intercettato. E i portoghesi vengono in avanti con Paolo Sousa. Ma bravissimo. Ben arrivo. Spezza la loro trama. Donadoni. Poi ha dato a stroppa. Sta giocando con straordinaria intensità la nostra nazionale. Veloso. La rovesciata di Barros. La palla che filtra in profondità. Il recupero di Dino Baggio. Sulla palla c'è Costa Curta. Che tocca all'indietro a Pagliuca. Ancora Costa Curta. Letteralmente aggrediti i portoghesi dall'avvio spuneggiante degli azzurri. E stacca altissimo Fernando Couto. La palla giunge a Joao Pinto. Che effettua il suggerimento verso Joao Pinto Vieira. Palla fuori. Pagliuca. Nove minuti di gioco. Zero a zero. Sono impegnati per questa lunga serata di calcio con me e molti altri colleghi. Galeazzi, Civo, Levitanza, Zuccalà, Paola, Ferrari, Casarin. Perché dopo la fine della partita ci sarà tutta una serie di interviste, di collegamenti con i quali faremo il punto sulla situazione. Non soltanto per il girone dell'Italia e del Portogallo, ma anche per gli altri gironi. Prova il Portogallo ora sulla destra. C'è Baresi a sventare. Persacchi, ritorno a San Siro. Stadio che ha visto le sue gesta alla guida del Milan. Dino Baggio. Palla però per Paolo Sousa. In profondità a Barros. Il sinistro di Futre. Alto. Un quadrato Paolo Futre. Giocatore temutissimo. Come sapete è stato ingaggiato dalla Reggiana. Un altro primo attore per il nostro campionato. Baresi. Ben arrivo. Vediamo intanto la conclusione alta di Futre. Centralmente il suggerimento. Tentano di approfittare i portoghesi. Svarione di Costa Curta. Ma sulla palancola Costa Curta che attende l'uscita di Pagliuca. Signori. Donadoni. 4-4-2. Classico della nostra formazione. Formazione. Maldini. Baresi. Franza Baresi. Casiraghi. Lo ferma. Fernando Couto. La palla è per Stroppa. Per Benarrivo ora. Benarrivo punta veloce. Converge. Cerca una soluzione. Batte lunghissimo cercando Signori. Ma c'è il colpo di testa di Joao Pinto. Ora è Vittor Paneira. Che fa filtrare verso Paolo Sosa. Largo a cercare Rui Barros. Rui Barros. Giocatore ben noto. I tifosi italiani. Ha militato nella Juventus. Il tocco all'indietro è ancora a favore di Veloso. Veloso combina con Vittor Paneira. Il tocco di questo è a Paolo Sosa. Ancora all'indietro a Veloso. Centralmente. A imbeccare Rui Costa. Buona la giocata di Rui Costa. Che poi trova un suggerimento largo. Per Futre. Converge Futre. Velocissimo. Tettativo di triangolo. Fermato. Roberto Baggio. Ottimo l'aggancio. Stroppa. Lancio in profondità. Ancora per Roberto Baggio. Che salta un avversario. Superiorità numerica dei nostri. Palla per Casiraghi. Casiraghi alla caccia del pallone. Lo ferma però Fernando Colto. Ma sulla sinistra era libero Signori. Ma combinato centralmente Roberto Baggio. ma sulla sinistra era liberissimo Signori. Ripartono i portoghesi. Rui Costa. Gara interessantissima. La palla è ora per Joao Pinto. Fermato. Carambola all'indietro del pallone. L'altro Joao Pinto. Anticipo secco di Maldini. Signori. Tino Baggio. Profondo. Fernando Colto. Sorveglia la situazione. Sembrava che dovesse giocare in marcatura. Uomo su Roberto Baggio. In realtà gioca da difensore centrale. Assieme a Giorgio Costa. Mentre i due esterni sono Joao Pinto e Veloso. Ecco Veloso ora in possesso di palla. C'è il disturbo degli azzurri. Recomerà il pallone a Roberto Baggio. Va il dribbling su Giorgio Costa. Limite nell'area. Ancora a fondo a Baggio. Giorgio Costa però in pericolo e lo ferma. Grande esperienza. Paolo Sousa. Giorgio Costa. Futre. Cuorigioco. Cuorigioco di Joao Viejo da Pinto. Come vedete in pinto. Come vedete in quadrato. Vedete la posizione. Regolare il giocatore portoghese. Signori ancora. Sale l'urlo. Italia, Italia. Roberto Baggio. Costa Curta. Stroppa. Fermato. Rui Costa. In proponità a cercare Futre. Baresi. Baresi prolunga su Pagliuca. Che ad evitare guai. Non poteva controllare con le mani. Mette di piatto in fallo laterale. 13 minuti e mezzo. Grande avvio degli azzurri. Stanno risalendo i portoghesi. C'è grande tensione in campo. Rui Costa. Largo dalla parte opposta. Joao Pinto. Mi si avvicina Signori. Il triangolo lungo e con l'altro Joao Pinto. Può andare a trossi. Colpo di testa di Baresi. Poi Joao Pinto. Il tiro alla parada di Pagliuca. Prima conclusione dei portoghesi al quattro dicesimo. Intanto mi segnala Casarini che a Zurigo dopo un quarto d'ora di gioco svizzera e estonia sono ancora solo 0-0. Naturalmente il risultato di San Siro va combinato con quello di Zurigo. Fermato Roberto Baggio. Grande determinazione anche da parte dei portoghesi. in possesso di palla con Paolo Sousa. Rui Baros. Sousa. Veloso. Destro. A cercare lo scatto ancora di Rui Baros. Il quale sebbene arrivo. Controllo troppo profondo di Rui Baros. se la palla si spegne a fondo campo. Partita che sta mantenendo tutte le promesse della vigilia. Sul piano dell'intensità. Costa Curta. Baresi. Benarrivo. Stroppo. Gino Baggio. Baresi. Roberto Baggio. Roberto Baggio. Sinistro alto. Si è girato molto bene. Ha caricato il sinistro. La battuta risultata alta. C'è da sottolineare l'insidia costante del fondo del terreno di San Siro che non è perfetto. Rivediamo. Sinistro comunque svirgolato. Che termina altissimo. La recupera del pallone è problematico. Si gioca da un quarto d'ora abbondante nel corso del primo tempo. Risultati di 0-0. Paolo Sosa. Rui Costa. Pelosso. Rui Costa. Benarrivo. Benarrivo. E fallo poi di Benarrivo. Anche se in precedenza forse il giocatore portoghese aveva pratenuto regolarmente il pallone tra i piedi. Non è intervenuto l'arbitro blanco Wojcik. E sugli sviluppi dell'azione il fallo che abbiamo rivisto. Benarrivo. Benarrivo. Gravinate di San Siro. Gravinate di San Siro. Si rialza. Deviare il calcio d'angolo Maldini sulla buona intuizione del difensore esterno destro portoghese. Joao Pinto che aveva sentato il dribbling in profondità. Va la battuta. D'angolo Futre. E viene in avanti anche Fernando Couto. Tenibilissimo colpitore di testa. Ecco Fernando Couto che cerca di farsi largo in area. Palla pericolosamente in avanti. Fuori gioco. Fuori gioco proprio di Fernando Couto. E' una partita che non ci consente di stare tranquilli. Rivediamo intanto ecco il colpo di testa di Ritor Panera che rimette in avanti. Facciamo la posizione regolare di Fernando Couto. Ancora i portoghesi. Vittor Panera. Tocca l'indietro a Joao Pinto. Da questo è Paolo Sousa. Cambia gioco su Veloso. Buona organizzazione da parte dei portoghesi. L'anticipo di Benarrivo. Donadoni. E vedete il fondo del terreno che inganna a Ghinobaggio. Provano i portoghesi. Costa Curta. Rinvio di sinistro. Il colpo di testa di Paolo Sousa. La palla per Donadoni. Largo a cercare Signori. Cerca una soluzione Signori. La prova con il passaggio a Dino Baggio che si libera del pallone a favore di Benarrivo. Ecco Benarrivo. Lo aspetta Stroppa. Gli fa spazio convergendo verso il centro. Il passaggio. In prudenza all'indietro su... Costa Curta. che dà Signori dalla parte opposta. Su Signori Joao Pinto. Dino Baggio. Con la punta del piede. Sbagliato il passaggio. Paolo Sousa. Joao Vieira Pinto. Velocissimo. Arriva l'altro. Joao Pinto sulla destra. Ecco lo servito. C'è Maldini su di lui. La filta. E ancora Maldini lo ferma. Il disimpegno in collaborazione con Donatori. La palla che diventa facile preda di Pagliuca. Pallo di Roberto Baggio su Paolo Sousa. Dopo aver subito la grande partenza degli azzurri, il Portogallo ha riorganizzato la propria manovra. È una squadra formata da tanti ottimi palleggiatori, maestri nel tessere una fitta trama di passaggi molto precisi. Per attendere poi l'improvvisa verticalizzazione nel momento più opportuno. Vedete anche questo bel triangolo sul quale però stroppa. Si produce in un buon recupero il suo colpo di tacco troppo lezioso. Consegna il pallone a Rui Barros. Da questi a Futre. Scalto in profondità Rui Barros. Futre fra tre avversari. Fermato. Signori. Con il sinistro. Un po' slegata, troppo lunga. In questi ultimi minuti la nostra formazione. Rimesso dagli azzurri. Donadona. Dino Balter. Roberto Balter. Scatta stroppa dentro. Grande suggerimento. Angolo. Ottimo l'inserimento di stroppa sul passaggio che rivediamo molto bello. Filtrante in profondità di Roberto Balter. La chiusura è stata di Velocco. Immagini che il regista De Pasquale si invia di nuovo in diretta per questo tira della bandierina degli azzurri. Sono stroppa i signori accanto al pallone. Scudono la distanza regolamentare gli azzurri. Vedete sulla linea di fondo campo c'è un segno bianco che indica dove i giocatori devono stare. I giocatori che subiscono naturalmente il corner. Crosti, signori, Vittor Bahia, alla presa. Portiere molto giovane, Vittor Bahia. Ormai di buona esperienza. Rui Costa, Paolo Sousa, Gioao Pinto. Rui Costa. A cercare Futre, c'è Marese. Lo giocano con una grande circospezione, come è giusto che sia, gli azzurri. Siamo al ventiduesimo del primo tempo. Il risultato è di 0-0. Ha tentato di sorprendere la formazione avversaria d'Italia con un avvio bruciante. Rui Costa. Vittor Panera. Gioao Pinto. Palla in profondità. Maldini lascia spilare. Bagno è l'attentativo di controllo di Vittor Panera. Sempre 0-0. Ricordo che nella gara d'andata in Portogallo, a Da Porta, la stadio da Xantas, abbiamo vinto per 3-1. Anche in quel caso c'era stato un fulmineo a via degli azzurri con gol di Roberto Baggio dopo qualche manciata di secondi e raddoppio di Casiraghi. Aveva poi segnato il Portogallo, confermando Couto, un gol irregolare convalidato dall'arbitro. Successivamente aveva regolato il conto finale di Novaggio. Intanto c'è stato uno scontro a centrocampo. Ecco che rivediamo. Una zuccata. Dovrebbe essere Casiraghi il nostro giocatore. Si è giocato su ritmi accesissimi e c'è da tenere nella dovuta considerazione anche lo stato del terreno di gioco che è molto insidioso. Ora a terra il giocatore portoghese che è Jorge Costa Rui Costa secondo l'addizione corrente i giocatori portoghesi hanno tutti un proprio nome di battaglia. Ecco ancora Keirosh che approfitta per chiamare accaduto a sé Rui Baros si è rialzato Jorge Costa. Pallone che era stato volontariamente lanciato in fallo laterale dagli azzurri quindi i portoghesi con ogni probabilità restituiranno all'Italia il pallone e lo sta facendo Velozo. Benavigo. Pagliuca. Porta il pallone fuori dalla propria area del nostro portiere poi batte lungo il sinistro centralmente bello il copertino di casa di Casiraghi Vino Baggio centralmente a Roberto Baggio finta di corpo di Baggio finta di far entrare il pallone Casiraghi l'uscita tempestiva del portiere Vittor Bahia Joao Pinto Paolo Sousa Vittor Panera Ciembuco da quest'altra parte Velozo stroppa a chiudere la combinazione con Rui Costa il destro profondo lo stacco di Maldini la palla però per Vittor Panera la combinazione ancora con Futre Maldini spezza la frama in combinazione con Donadoni viene in avanti si sovrappone riceve signori con la punta del piede lo ferma Joao Pinto Donadoni Dino Baggio Roberto Baggio buono il controllo c'è stroppa servito lo stop veloce su di lui ma sostegno ben arrivo servito palla sul sinistro il cross lo stacco imperioso da parte di Fernando Couto il colpo di testa poi di Donadoni alla rincorsa del pallone signori lo tiene in campo affidandolo a Baresi di prima ancora Donadoni Donadoni mantiene il possesso del pallone e lo cede quindi a Costa Curta Costa Curta Donadoni Baresi Roberto Baggio fermato dall'intervento di Rui Barros che riceve ancora il passaggio di ritorno poi la combinazione con Rui Costa avanza Vittor Paneira s'allarga Futre ecco l'ho servito ancora Futre Rui Costa Joao Pinto Paolo Sosa combinazione ancora con Joao Pinto ottimo il palleggio ravvicinato dei portoghesi che costringono in falla laterale i nostri è una partita difficile 0-0 dopo 27 minuti vi ripeto che l'Italia e il Portogallo si giocano il diritto a giocare la fase finale dei mondiali veloce il suo cross la palla in area messa giù da Rui Costa poi è Joao Pinto il suo destro altissimo ma i portoghesi che si sono ottimamente riorganizzati dopo aver dato l'impressione di soffrire un po' il vehemente avvio degli azzurri stanno giocando un buon match non si sblocca la situazione intanto a Zurigo è 0-0 tra Svizzera e Estonia la Svizzera ve lo ricordo ha un punto in meno rispetto a Italia e Portogallo può solo sperare il Portogallo e l'Italia possono solo sperare che la Svizzera non batta le stone per loro sarebbe tutto molto più facile intanto l'ambito non interviene c'è Paolo Sousa in possesso di palla tornando Couto sbaglia e rilancio Dino Baggio in propria Roberto Baggio si gira bene Roberto Baggio la palla per Maldini in giro e il pallone deviato in angolo da Vittor Bahia grande conclusione di prima di destro radente di Paolo Maldini che vedete inquadrato sul suggerimento di Roberto Baggio è parata distinto la banda del portiere Vittor Bahia ecco la conclusione di Maldini insidiosissima bravo Vittor Bahia angolo per l'Italia 29 minuti di gioco nel corso del primo tempo palla fuori Roberto Baggio il cross il colpo di testa di ben arrivo che fa da torre ma non ci sono maglie azzurre nella zona in cui piomba il pallone Vittor Bahia molto bravo qualche attimo fa sulla conclusione di Maldini Fernando Couto vedete che gli azzurri non portano il pressing nella metà campo avversarie Veloso in profondità Baresi e c'è calcio di punizione è saltato un po' fuori tempo Baresi su Futre rivediamo calcio di punizione comandato dall'arbitro il polacco Wojcik a proposito del quale i portoghesi in maniera per la verità apparentemente strumentale hanno avuto parole di scarsa considerazione i febbrivi giorni della vigilia e Paolo Sousa sul pallone poco più dietro Fernando Couto trova il destro Fernando Couto lo ferma signori sulla carambola Veloso ecco il suggerimento largo per Joao Pinto giocatore molto esperto fermato da ben arrivo ma i portoghesi sono abilissimi nel recupero del pallone e ora Giorgio Costa in possesso di palla Joao Pinto quindi Vittor Paneira sul filo del fallo laterale scatta in profondità Donadone Svizzera in vantaggio al trentunesimo con Knup 1 a 0 fallo intanto su Stroppa si rialza e si riprende con questo calcio di punizione è stato ben arrivo che ha dato la costa curta riceve il passaggio di ritorno cerca un quarto sulla destra riesce a battere il cross in corsa ribattuto dal colpo di testa di Giorgio Costa poi a centro campo è Dino Maggio che commette fallo su Joao Pinto ecco Rui Baros furto fermato 31 minuti e mezzo di gioco nel corso del primo tempo tra Italia e Portogallo a San Siro Rui Costa lunghissimo il lancio a cercare Joao Pinto vedete l'esperto giocatore che mette a terra e serve Vittor Paneira il quale dà centralmente all'altro Joao Pinto da questi a Rui Costa provano i portoghesi da quest'altra parte con Veloso di primo il suggerimento in profondità c'è Costa Curta che preoccupatissimo della vicinanza di Futre scalamento in fallo laterale ancora Futre Rui Baros Futre fermato da Costa Curta ma c'è ancora Rui Baros tenta di combinare con Futre poi il pallone di Vittor Paneira ben arrivo caricato calcio di punizione a favore naturalmente di Vittorio e trascorrono i minuti e il Portogallo conferma di essere una formazione estremamente agguerrita molto ben disposta sul campo praticamente capace di coprirsi e contraattaccare Baris verso Casiraghi lascia sfidare Casiraghi la palla verso Signori Joao Pinto su di lui arriva anche l'altro Joao Pinto e è ora Joao Vieira Pinto che dà centralmente a Vittor Paneira da questo e da quest'altra parte l'ottimo anticipo di ben arrivo la palla carambola su Donadoni grande pressing a centrocampo dei portoghesi Barisi largo a Signori avanza anche a larghe filate sulla sinistra Maldini lo aspetta ma poi va alla battuta Signori e Joao Pinto ha la possibilità di orchestrare il contrattacco portoghese siamo però in 5 contro 2 ecco Futre Barisi Signori gara tattica giocata con grandissima attenzione degli azzurri si sgancia ora Barisi tocca a Donadoni s'allarga stroppa cerca una soluzione da Donadoni in becca Dino Baggio Dino Baggio cerca di evitare Paolo Sousa va in profondità ma inevitabilmente poi trova un altro difensore che lo ferma l'inquadratura è per Roberto Baggio Vittor Panera Paolo Sousa ancora Vittor Panera Joao Pinto 2 a 0 per la Svizzera sull'Estonia Svizzera praticamente negli Stati Uniti Veloso Joao Pinto dentro Baresi attenzione Bolivar c'è ancora miracolosamente Baresi poi Benarrivo ora stroppa sbaglia e c'è Futre sulla sinistra entra in gara a Futre c'è su di lui Benarrivo pasticcia Futre la palla la palla si spegne a fondo campo le notizie che giungono da Zurigo che tra l'altro erano facilmente prevedibili e che vedono la Svizzera in vantaggio già per due gol a zero prendono ancora più con la matica in questa partita attenzione c'è Joao Vieira Pinto il suo tiro che spila a fondo campo errore in disimpegno degli azzurri conclusione di Joao Vieira Pinto e palla sul fondo non è molto signori non è un gran momento per gli azzurri che ci avevano in uso con una partenza straordinaria Maldini Donadoni Roberto Baggio stroppa stroppa è un buon tiratore stroppa di destro però tocca fuori a Dino Baggio prova in destro Dino Baggio e il pallone si spegne a fondo campo con deviazione c'è calcio d'angolo 36 minuti di gioco nel corso del primo tempo il risultato di 0-0 l'Italia batte un altro tiro dalla bandierina per effetto di questa conclusione di Dino Baggio finita fuori dopo deviazione di un avversario è stroppa che si accinge a battere dalla bandierina da lui c'è anche signori in avanti Dino Baggio e Maldini assieme a Casiraghi che sta disturbando il portiere Vittor Bahia parabola in quattro il colpo di testa è di Veloso signori attaccato da Rui Barros che gli ruba il pallone poi Costa Curta che era in palla laterale cutre Paolo Sousa e sentite l'urlo portugal dei sostenitori portoghesi arrivati qui a Milano intanto è Paolo Sousa in possesso di palla il tocco è per Joao Domingo spinta pinto all'indietro ma si è tornato e esce il portiere Vittor Bahia e scaraventa lunghissimo in profondità per il colpo di testa di Baresi ma la palla però è di Vittor Panera davanti a lui Donadoni che lo ferma e ancora Vittor Panera che fa filtrare un buon pallone centrale per Paolo Sousa da questi a Joao Vieiro pinto da Joao pinto e calando all'altro Joao pinto serie rifinte su Maldini converge parte un tiro che si spegne a fondo campo dalla parte opposta va a recupero Pagliuca mentre l'inquadratura era riservata all'arbitro polacco Wojcic che finora ha ben diretto una partita per la verità non difficile Donadoni grande correttezza in campo lancio l'unglo centrale un po' di testa di Joao pinto Paolo Sousa l'altro Joao pinto Paolo Sousa Vittor Panera anzi questo è Paolo Sousa Rui Costa ve lo so ancora Rui Costa ottima la triangolazione sempre Rui Costa futre Rui Costa destro sul fondo sta giocando bene il Portogallo 38 minuti nel corso del primo tempo ben arrivo abbiamo rivisto la conclusione sul fondo Dino Baggio Casiraghi c'è Jorge Costa su di lui anche Veloso Palla tenuta in campo combinazione tra i due Rimio lungo di Veloso a centro campo tenta lo stacco Donadoni più alto di lui Joao pinto poi Dino Baggio ora Maldini signori sovrapposizione di Maldini pallonetto a cercare Maldini si alza la bandiera del guarda linea segnalare un fuorigioco che non giurerei ci fosse rivediamo vediamo il momento in cui parte il lancio non c'era Paolo Sousa Vittor Panera Joao Vieira pinto Joao Domingos pinto signori su di lui ultimo tocco portoghese rimessa azzurra Tarese poco più di 5 minuti alla fine del primo tempo costa curta colpisce Donadoni poi Baresi colpo di testa bello di Casiraghi per Roberto Baggio va Roberto Baggio cerca Stroppa in area Stroppa due avversari su di lui bravissimi nel raddoppio i portoghesi vedete la difficoltà di Stroppa nel girarsi ed è bravo a conquistare l'angolo viene a battere dalla bandierina signori superato il quarantesimo minuto di gioco nel corso del primo tempo con situazione ferma sullo 0 a 0 c'è accanto signori Stroppa solita contestazione per la distanza dei due giocatori portoghesi signori il cross la finta poi Stroppa ben arrivo signori parte il cross sta Camaldini palla in area e Giorgio Costa che anticipa Casiraghi in angolo guarda che non ha avuto un attimo di pausa è Stroppa ora che va a etecuare il tiro dalla bandierina il colpo di testa di Veloso la palla per Vittor Panera scatta Rui Barros sulla destra il passaggio centrale per Joao Pinto Roberto Baggio su lui tocca il pallone e poi le caviglie dell'avversario calcio di punizione a terra Joao Vieira Pinto rivediamo vedete Baggio che sfiora il pallone poi tenta di intercettarlo e trova invece la caviglia dell'avversario ora tutti i portoghesi intorno a Baggio a protestare calcio di punizione invocano la punizione di Baggio a Volcic l'arbitro che vedete è inquadrato comanda il semplice calcio di punizione l'espressione di Arrigo Sacco tanto a lui avete visto Ficca Fernando Conto Baris Paolo Sol altissimo c'era fuori gioco Baldini uno sbarione poi Pagliuca in due tempi e ripartono gli azzurri con questo lancio fuori misura c'è comunque un fallo di mano al centrocampo gioco fermo calcio di punizione stroppa Benarrivo con lui ecco Benarrivo Roberto Baggio attenzione al fuorigioco fermato Roberto Baggio dall'ottimo veloce giocatore molto esperto il rilancio di Rui Costa Pagliuca Dribu a Futre attenzione poi tocca a Benarrivo di prima Donadoni va Donadoni al dribbling stroppa in di trovare un corridoio c'è gioco di distruzione su di lui non interviene l'arbitro Wojcik la palla è portoghese Rui Costa Paolo Sousa Vittor Panera Rui Costa vedete il tipico gioco portoghese di tanto in tanto rallentano il gioco questa fitta serie di passaggi trasversali per attendere il momento opportuno di verticalizzare buona la fitta Vittor Panera e sono buoni giocatori portoghesi ve lo so Paolo Futre la Futre 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 Joao Pinto Baresi colpo di testa ora di Giorgio Costa quello di Fernando Couto la palla per Veloso meglio organizzato il Portogallo in questa fase finale del primo tempo siamo sullo 0-0 al 44esimo Vittor Panera secco lo scatto non si capisce con Joao Pinto la palla per Baresi ora per Donadoni Stroppatino Baggio ben arrivo Donadoni Baresi Fernando Couto come si trovino molto meglio i portoghesi Donadoni signore proviamo lo aspetta Joao Pinto il passaggio è su Roberto Baggio parte il cross di Baggio il colpo di testa di Ricosta la palla è fuori per Signori saldato un avversario come il secondo Dino Baggio anticipato palla in fallo laterale concentratissimi molto bravi i portoghesi costa curta Baresi bel colpo di testa di Pasiraghi per Roberto Baggio ora signori sulla sinistra gli si avvicina Joao Pinto parte il cross sul colpo di testa di Fernando Couto eccellente nel gioco aereo palla in calcio d'acqua vedete inquadrato appunto Fernando Couto uno dei tanti gioiellini con i quali Queiroz il tecnico portoghesi ora della prima squadra ha conquistato due titoli mondiali a livello di calcio giovanile parte il tiro dalla bandierina e Joao Pinto che mette fuori Donadoni l'arresto buono il tocco esterno per signori immediato il cross troppo profondo si spegne a fondo campo tempo scaduto come vedete si stanno giocando gli attimi di recupero del primo tempo di Italia Portogallo il risultato è di 0 a 0 è un risultato che ci garantisce ancora la qualificazione per la fase finale dei mondiali ma naturalmente si tiene in costante apprezzione Rui Costa Futre Vittor Panera il fischio dell'arbitro che manda le due squadre negli spogliatoi un primo tempo caratterizzato da un avvio spumeggiante molto intenso degli azzurri che per una decina di minuti hanno costretto sulla difensiva i portoghesi poi lo slancio degli italiani si è un po' spento affievolito e i portoghesi hanno avuto l'opportunità di dimostrare tutta la loro ottima organizzazione di gioco tra l'altro Queiroz come vi dicevo che ha comunicato la formazione all'ultimo momento ha optato per l'inserimento di alcuni giocatori molto esperti come Vittor Panera e Veloso che sembrava dovessero restare in panchina e il Portogallo ha confermato di essere avversario temibilissimo nel frattempo mi segnala Casarin che a Zurigo la Svizzera è passata sul 3-0 festa grande della vicina confederazione la Svizzera dopo tanti anni è ormai certa di andare alla fase finale dei mondiali ancora negli spogliatori abbiamo qualche attimo di tempo perché Giampiero raccolga qualche altra testimonianza vai Giampiero buonasera abbiamo abbiamo molti presidenti io penso il presidente Berlusconi un giudizio su questo primo tempo degli azzurri un primo tempo che dai tecnici trappatoni buon insegno non è stato giudicato all'altezza però si capisce la difficoltà prego da questa parte grazie a Gagliani dello spazio allora lei come ha visto l'Italia? beh un'Italia un poco in difficoltà perché si è incontrata con una squadra benissimo organizzata che sa giocare calcio con geometrie perfette e quindi probabilmente superiore alle aspettative però non direi che l'Italia ha mal figurato abbiamo avuto qualche occasione di tiro apprezzabile e credo che adesso nel secondo tempo ci rifaremo grazie Presidente Berlusconi Presidente Nizzola lei dal punto di vista non solo tecnico ma anche con le prova della squadra cosa ha visto? ma indubbiamente è una squadra che in questo momento soffre un po' dell'importanza della gara si legge nettamente che c'è un po' di paura e di preoccupazione e questo condiziona sempre la prestazione che subisce molto di questa preoccupazione che è chiaramente mi auguro che possa rimrancare gli spiriti che vediamo possiamo vedere un secondo tempo più tranquillo e più sereno grazie ringrazio anche Presidente Belloscone Presidente Pellegrini velocemente una battuta un'Italia ha la responsabilità di ben figurare comunque c'è fiducia speriamo in un secondo tempo sicuramente migliore grazie ancora Presidente grazie bene tutto è pronto per l'inizio del secondo tempo ancora 45 minuti di ansia e anche diciamolo pure di paura il risultato finora ci è favorevole vi ricordo che gli azzurri può bastare anche il pareggio ma naturalmente il Portogallo ha confermato la bontà del suo gioco e la qualità dei suoi singoli non ci sono state sostituzioni durante l'intervallo il colpo di testa dopo Casiraghi è stato di Giorgio Costa due giocatori a terra Fernando Couto e Casiraghi vedete il giovane Fernando Couto che è rimasto contuso nello scontro con Casiraghi Fernando Couto è uno dei molti giocatori che facevano parte delle formazioni giovanili per due volte vittoriose nel mondiale l'Uniores attualmente a 24 anni si rialza Casiraghi e ancora a terra Fernando Couto l'avete sentito anche nelle dichiarazioni raccolte da Galeazzi durante l'intervallo come ci sia ancora fiducia ma c'è anche preoccupazione e ansia mentre così come era stato annunciato c'è la presenza del presidente del consiglio Ciampi sempre a terra Fernando Couto c'è da dire in linea di valutazione tattica generale che la squadra di Sacchi a lungo non ha portato il pressing a tutto campo snaturando un po' quelle che sono le filosofie di gioco dei Sacchi che vedete in quadrato d'altra parte l'esigenza di cautelarsi alle spalle ha comportato un atteggiamento di una certa prudenza grande avvio degli azzurri poi i portoghesi si sono fatti di valere come proprietà di palleggio e buona organizzazione collettiva di manovra il colpo di testa di Rui Costa per l'inserimento di Paolo Sousa che tenta di andare via sulla sinistra ma si trascina il pallone in pallo laterale si gioca da due minuti del secondo tempo la palla è per Costa Curta Baresi questa curta a cercare Benarrivo su quale c'è fallo calcio di punizione per la nazionale italiana un pallone affidato a Stroppa il disturbo di Rui Barros il raddoppio da parte di Veloso la rimessa per Benarrivo indirizzata su Roberto Baggio pallonetto di Roberto Baggio forbice di Veloso palla per Rui Costa che disimpegna in pallo laterale Benarrivo Baresi Costa Curta Baresi c'è Maldini libero da quest'altra parte lo vede Baresi e lo serve buono all'arretto il passaggio per signori colto in controtempo Joao Pinto Joao Vieira Pinto cambia gioco c'è Rui Barros Benarrivo su di lui Joao Pinto Donadone Dino Baggio signori si sovrappone Maldini converge signori palla per Dino Baggio ancora signori c'è Maldini troppo profondo il suggerimento finta di Joao Pinto e palla che si spegne a fondo campo signori da giocato l'ultima battuta d'allenamento da leggera contrattura muscolare regolarmente in campo impostazione dei portoghesi con Rubicosta vedete come in maniera addirittura plateale rallentino la manovra approfittando del fatto che i nostri non portano il pressing nella metà campo avversaria e questa è una caratteristica che non è consueta nelle squadre di Sacchi d'altra parte le esigenze del risultato suggeriscono agli azzurri un comportamento piuttosto prudente lunghissima questa serie di palleggi da parte dei portoghesi ora c'è non il pressing gli azzurri ma c'è questo lancio in profondità su quale Costa Curta è in vantaggio si gira Costa Curta offre il pallone a Benarrivo Baresi scroppa scatta Benarrivo e si sovrappone eccolo servito ma chiudono benissimo tutte le zone del campo i portoghesi la pallone per Roberto Maggio Roberto Maggio largo per signori non batte di prima e poi il suo tiro deviato è il fallo di Roberto Maggio sul portiere Vittor Baia vanno i portoghesi a protestare contro Roberto Maggio e ci sarà ammunizione ammunito Roberto Maggio secondo giocatore ammunito della partita nel corso del primo tempo cartellino giallo per Paolo Sousa a terra il portiere Vittor Baia rivediamo signori non ha battuto di prima poi la sua conclusione è stata sfiorata da Joao Pinto parata dal portiere Vittor Baia sul quale c'è sembra la carica di Roberto Maggio approfitta ancora di questa pausa Keiros per chiamare accanto a sé Futre e dargli alcune indicazioni mentre vedete che è sempre a terra il 24enne portiere Vittor Baia gioca gioca con il porto eppure essendo molto giovane ha già 27 presenze in nazionale si rialza Vittor Baia è a posto sono trascorsi sei minuti nel corso del secondo tempo il risultato è di 0 a 0 Paolo Sousa grande organizzatore di gioco nelle file portoghese poi questo lungo lancio di Rui Costa in profondità per il colpo di testa all'indietro opportuno di ben arrivo e la presa di Pagliuca che va a rinvio lo stacco di Casiraghi la palla messa giù da Vittor Panera affidata a Joao Pinto che calcia direttamente fuori aveva tentato di imbeccare Futre ancora Pagliuca posta curva Baresi sbaglia Rui Baros imperfetto anche il suo rilancio il colpo di ginocchio di Maldini la palla per Joao Pinto poi Baresi Maldini pare un po' bloccata contratta la nostra nazionale signori Roberto Baggio scivola sul terreno in fido Fernando Couto lo dribbla elegantemente torna su di lui Baggio signori ancora Fernando Couto per Vittor Panera Joao Pinto Vittor Panera Maldini Baresi Tagliuca non è tranquilla la nostra nazionale Dino Baggio Roberto Baggio signori dentro per Casiraghi chiude Fernando Couto Joao Pinto Paolo Sousa giocatore tatticamente molto intelligente Joao Pinto anticipo di Maldini poi ancora Joao Pinto con la punta del piede metto di fuori la rimessa di Joao Pinto per Vittor Panera dalla parte opposta a imbeccare Veloso va Veloso cerca di dribblare Stroppa che lo ferma ma la palla è ancora dei portoghesi con Rui Costa che tocca all'indietro a Giorgio Costa Paolo Sousa Futre si gira ottimamente Futre Davide Torboneira all'indietro lo ha vinto poi Dino D'Angio Carimedia Casiraghi possibilità di contropiede soffriamo però troppo Stroppa commette fallo vantaggio poi al secondo intervento falloso fischia l'arbitro Paolo Sousa palla dentro per Futre ultimo tocco di Futre rinvio da fondo campo ma siamo qui in trepidazione 9 minuti nel corso del secondo tempo 0-0 ci tiene sulle spine il portogallo signori Dino Baggio c'è il signore eccolo lo aspetta Joao Pinto lo punta signori converge in area va verso il fondo il suo tiro e l'implacabile Fernando Colt ferma anche questa iniziativa ma in angolo corner per l'Italia va a battere signori e poi manca il pallone ben arrivo Donadoni Costa Curta Baresi in avanti in qualche modo Fernando Colta Joao Pinto scotta la palla tra i piedi ai nostri l'amministrano con maggiore attenzione e sagaccia i portoghesi Rui Costa dentro Joao Pinto attenzione Rui Bamos sulla sinistra parte traversione Baresi contemporaneamente a Joao Pinto ultimo tocco di Baresi angolo per i portoghesi non è d'accordo Baresi per un arbitrale comunque che decreta l'esecuzione del giro della bandierina con Vitor Paneira 11 minuti del secondo tempo 0-0 Portogallo la tiro d'angolo Pagliuca è venuto in avanti come sempre Fernando Couto proprio Fernando Couto ma con un colpo di mano l'ha segnato il gol del Portogallo Giorgio Costa Donadoni lo attacca ma sono bravissimi i portoghesi c'è un fallo di signori norma del vantaggio si prosegue alla fine Maldini che mette fuori su Rui Costa arriva Joao Pinto Paolo Sosa gran giocatore Rui Costa Paolo Sosa vedete con quanta precisione distribuisca palloni su palloni c'è l'anticipo di Costa Curta la palla per Albert Veloso tutta la nostra nazionale è nella nostra medica ora c'è un break stroppa dentro a cercare Casiraghi trova il controllo Casiraghi Veloso su di lui si ferma Casiraghi cerca lo spazio per il traversone lo trova ma la presa di Ritorbaia non è difficile Paolo Sosa gara intensissima Joao Pinto ancora Paolo Sosa di prima su Rui Costa dentro un pallone che però è controllato da stroppa giocato su Donadoni c'è signori libero eccolo servito si vuole calma ancora Donadoni viene Maldini anche prova la soluzione dalla parte opposta invece Donadoni stroppa si avventura in un tentativo di controllo che non gli riesce Vittor Baia Paolo Sosa è la fonte del gioco del Portogallo Vittor Paneira ancora Paolo Sosa largo su Veloso lui Barro sul conto di testa di Costa Curta la palla per Alberto Baggio ancora per stroppa per Pino Baggio Donadoni non si intendono i nostri e giocano con eccessiva precipitazione ora è Costa Curta da ben arrivo da questi a stroppa palla per Roberto Baggio c'è fallo su di lui di Giorgio Costa facendo che si può proseguire l'abito l'azione era fallosa stavolta viene in avanti il Portogallo ancora con Rui Barros Barros funziona da quest'altra parte colpo di testa di Maldini signori Baresi Roberto Baggio possibilità del contropiede c'è il buco per Roberto Baggio punta Fernando Costa viene fermato Giorgio Pinto ancora Maldini autore di una buona prestazione che si sposta in avanti cerca la collaborazione di stroppa Maldini fuori gioco 14 minuti del secondo tempo 0 a 0 è una partita che ricorderemo a lungo per la grande tensione vediamo il lancio e anche in questo caso non c'era fuori gioco vedete che sul centro del teleschermo c'era Fernando Couto che peneva in gioco Maldini immagine di nuovo in diretta ben arrivo combina con stroppa stroppa si libera la palla a favore di Tino Baggio ora Donadoni ancora un passaggio troppo lungo ma Donadoni con la punta del piede riesce a dare a signori va signori la collaborazione con Roberto Baggio signori calcio di punizione protesta Fernando Couto toccato sul piede d'appoggio signori lì vicino Volci che sta ben dirigendo comando a calcio di punizione rascorre con grande lentezza i minuti mentre si prepara Albertini lo vedete inquadrato tanto grandi in anno gol Zurigo 4-0 dalla Svizzera l'Estonia Svizzera negli Stati Uniti Donadoni sulla palla Roberto Baggio poco più indietro anche signori in posizione di eventuale tiro cambio cambio esce stroppa entra costa Albertini tutto questo al sedicesimo del secondo tempo prima sostituzione della gara baggio è un assinuro che si perde a fondo campo di niente grandissima conclusione di Roberto Baggio e palla fuori di pochissimo rivediamo vedete il destro affondato rabbiosamente di collo pieno esce di un niente Gioao Pinto Vittor Panera Paolo Sousa Rui Costa Veloso Gioao Pinto costa curta su di lui lo ferma in fallo laterale rimessa l'effetto a Gioao Pinto lasciando poi l'incarico a Rui Costa all'indietro per Veloso Veloso disturbato da Donadoni che lo ferma ancora in fallo laterale 17 minuti nel prossimo secondo tempo 0-0 Dino Baggio lui è un pallone per Rui Barro scona per Futre Baresi su di lui largo a cercare Gioao Pinto la combinazione con Vittor Panera il recupero dell'impeccabile Maldini la palla per Roberto Baggio c'è un buco dall'altra parte ecco Dino Baggio c'è Donadoni libero eccolo Donadoni ora gioca esterno Albertini centrale sovrapposizione di Benarrivo va Donadoni dentro Benarrivo calcio di punizione gioco di istruzione si modifica tatticamente il nostro centrocampo Donadoni gioca esterno destro mentre si riforma la coppia di centrocampisti centrali Dino Baggio Albertini è uscito stroppa calcio di punizione intanto per la nostra nazionale parte da fuori Dino Baggio in area sono Maldini e Casiraghi il cross il colpo di testa di Giorgio e Costa l'anticipo di Baresi Baresi largo per Maldini parte subito il cross di Maldini Fernando Couto ecco Albertini Baresi Baggio 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 tiro 19 minuti del secondo tempo 0-0 rivediamo l'azione Roberto Baggio mette giù bene vedete il rifavelo Casiraghi il destro sul fondo Paolo Sousa Giorgio Costa sbaglia Baggio Roberto ha ricevuto da Dino c'è una deviazione ma c'è Donadoni che ora gioca largo vedete il fondo del terreno molto irregolare bravo Donadoni a mantenere il possesso della palla quindi Baggio largo può cercare signori arriva di gran mulata Maldini eccolo servito può effettuare il cross effettuato ma sul portiere Vittor Baia rilancio immediato di quest'ultimo non c'è un attimo di pausa dal colpo di testo di Baresi la palla per signori cresce la nostra nazionale cambia gioco molto bene signori e c'è Donadoni che mette in movimento Benarrivo va Benarrivo si propone Albertini riceve c'è anche Donadoni il pubblico percepisce che è un buon momento della nostra nazionale la incoraggia ecco Roberto Baggio Roberto Baggio al limite dentro per Casiraghi ancora Roberto Baggio Fernando Couto c'è un tiro e Dino Baggio ma centrale para Vittor Baia partita vibrante sentite il pubblico di San Siro come incoraggia la nostra nazionale gioco fermo calcio di punizione per fallo seguito da Joao Pinto abbiamo rivisto la precedente conclusione di Dino Baggio comparato di Vittor Baia 20 minuti del secondo tempo 0-0 fino a Baggio Roberto Baggio Casiraghi signori Albertini posta a curta Maldini signori signori pronti a raddoppio il portoghese giudicata regolare mi pare che l'ambito abbia ragione l'entrata di Joao Pinto la palla è ora per Paolo Sousa per Fernando Couto per Veloso Vittor Panera si avvicina il passaggio però avviene su Paolo Sousa l'arco ancora a cercare Joao Pinto il quale dà in profondità a pallone sul quale Dino Baggio interviene signori Baresi in sovrapposizione tenta il triangolo lungo con lui Roberto Baggio ma sbaglio a pari e tonica la nostra nazionale con Donadoni esterno e Baggio e Dino Baggio e Albertini centrali Veloso Costa curta molto bene ben arrivo Baresi Albertini torna sui suoi passi tiene il pallone se ne libera opportunamente su Maldini Maldini signori Roberto Baggio Albertini suggerimento molto bello per Casiraghi e qui c'era rigora qui c'era rigora a mio modo di vedere in ritardo il portiere Vittorio Bahia impatta sul piede di Casiraghi rivediamo il lancio bellissimo di Albertini Casiraghi anticipa il portiere e mi pare di aver visto che c'è netto il tocco sul piede d'appoggio e l'arbitro concede un calcio d'angolo che non c'è c'era rigore alla ventiduesimo del secondo tempo signori fa la spiovere in area la mette fuori Joao Pinto la recupera Roberto Baggio cambia su Donadoni c'è la sovrapposizione di Benarrivo parte il cross Fernando Couto palla in area Vittorio Panera bisogna disturbarlo il rilancio per Joao Pinto fallo di Albertini su di lui pronto a entrare in campo nelle file dei portoghiesi Domingos è un attaccante esce Rui Costa un centrocampista il tutto per tutto da Keiros 23 i minuti del secondo tempo Rui Costa esce entra Domingos Domingos va a sistemarsi subito centralmente nell'attacco dovrà vedersela con lui Costa Curta palla intanto affidata a Veloso qualche attimo fa mi pare di poter dire che l'intervento delle portiere Vittorio Bahia su Casiraghi era da calcio di rigore Giorgio Costa Paolo Sousa Joao Pinto ancora fallo di Albertini rivediamo Portoghesi in azione con Giorgio Costa Joao Pinto L'evitato Signori Joao Pinto disimpegna a favore di Veloso Veloso ancora per Joao Pinto da questo a Paolo Sousa Paolo Sousa il colpo di testa di Maldini la palla per Signori ha giocato benissimo Maldini Casiraghi Vino Baggio Albertini ci sono due maglie azzure sulla destra ecco che Albertini vede Donadoni mentre ci atterra Signori non inquadrato Donadoni c'è il compagno calcio di punizione e ammunizione ammunizione per Veloso probabilmente si ammunito Veloso squadra più equilibrata con Albertini centrale Donadoni esterno Donadoni quando punta l'avversario sull'uno contro uno ha molte probabilità di farlo fuori e questo naturalmente determina una situazione di vantaggio tattico qui è Veloso che ha ostacolato irregolarmente Donadoni mentre si è rialzato Signori e riprenderemo con un calcio di punizione a favore degli azzurri che sta per battere Roberto Baggio 25 minuti del secondo tempo il cross colpo di testa la palla fuori per Albertini prova al destro ribattuto è pronto Baresi di prima tenta di imbeccare Signori ancora Albertini un po' corto Signori però riesce a entrare in possesso del pallone Polcincischi alla palla palla fuori sull'iniziativa di Futre anzi del nuovo entrato Domingos Baresi a cercare Casiraghi Dino Baggio il pressing riuscito Roberto Baggio Dino Baggio Dino Baggio fuori Roberto Baggio Casiraghi limite destro sparaggiato alle stelle tentando di dare il giro col collo interno al pallone accolpito di collo pieno e la palla naturalmente è finita lontanissima Fernando Couto 27 minuti di gioco nel corso del secondo tempo 0-0 tra Italia e Portogallo in una impietosa sfida Benarrivo sfiora con la punta del piede Costa Curta la terra e ci sarà un calcio di punizione contro Costa Curta anche se probabilmente prima Costa Curta era stato disturbato dall'avversario viene in avanti naturalmente Fernando Couto e con lui anche l'altro difensore centrale Giorgio Costa e vedete che in effetti Costa Curta alza su Joao Pinto in maniera irregolare una gamba per questo calcio di punizione attenzione ai colpitori di testa del Portogallo sono in particolare i due difensori centrali il tre il cinque Giorgio Costa e Fernando Couto palla in area Marese Veloso all'indietro Paolo Sousa splendido stacco di Maldini e palla in fallo laterale grande prova di Maldini fuori gioco fuori gioco di Domingos ma la nostra nazionale sembra avere ripreso un po' di confidenza ora il gioco è nelle mani degli azzurri anche se i portoghesi naturalmente costituiscono sempre avversari da tenere d'occhio intanto anche stavolta l'arbitro non fischia un fallo su Casiraghi Marese riconquista il pallone con Roberto Baggio ancora un buco sulla destra con Donadoni e Benarrivo Benarrivo punta veloce va verso il fondo non c'è fallo stavolta e l'azione si spegne a fotocampo Paolo Sousa Joao Pinto che naturalmente ha retratto a raggio della propriazione da quando è entrato in campo l'attaccante puro Domingos palla centralmente a Vittor Panera ecco Domingos Domingos cerca di andare via ottimo palleggio sempre Domingos attenzione mi fa velo un compagno Domingos poi mantiene a lungo il passaggio del pallone e quando se ne libera il tocco è troppo lungo per Vittor Panera Pagliuca 29 minuti di gioco nel corso del secondo tempo 0 a 0 si sta scaldando anche Roberto Mancini eccolo palla molto lunga protetto dal compagno Solce Costa esce il portiere coi piedi per un attimo Donadoni ora Roberto Baggio a terra fischia poco ora l'arbitro Volci Paolo Sousa Joao Vieira Pinto Donadoni su di lui giù e anche stavolta l'intervento mi è parso di regolare lascia correre l'arbitro Donadoni due avversari su di lui è veloce ora sulla palla Joao Pinto Vittor Panera cerca una soluzione rallenta d'arte batte batte ora in profondità imbeccando Rui Barros Baresi l'anticipo di Joao Pinto poi di Novaggio ed ecco signori abbiamo spazio signori il tiro che è un po' telefonato e che non crea soverchi e preoccupazioni a Vittor Bahia Paolo Sousa Joao Pinto l'altro Joao Pinto Vittor Panera Domingos Paredes mette fuori Rui Barros cambio contemporaneo cambio di due elementi esce signori entra Mancini nelle file italiane 31esimo del secondo tempo seconda sostituzione delle file italiane seconda sostituzione delle file portoghese nel Portogallo entra un altro attaccante Aguas Joao Pinto Paolo Sousa palla lunga non ci arriva nessuno fuori un difensore Joao Pinto dentro un altro attaccante Aguas Rui Aguas e José Aguas e quindi c'è ora una squadra portoghese imbottita di centrocampisti con due punte a colpo di testa di Fernando Couto Mancini Casiraghi Valdino Roberto Baggio ottimo Roberto Baggio punta verso l'area Creato Giorgio Costa di più dello specchio angolo vediamo la splendida azione vedete il tocco e il tiro di Roberto Baggio che mirava l'angolino opposto è arrivato Giorgio Costa a rifugiarsi in calcio d'angolo il tiro dalla bandierina di Mancini e la palla sbucciata da Giorgio Costa viene bloccata da Vittor Bahia il colpo di testa di Casiraghi quest'altro del nuovo entrato Rui Aguas attenzione un pallone pericoloso per Rui Baros Maldini che poi subisce fallo mentre protesta liberatamente a bordo campo l'allenatore Kairos eccolo inquadrato vedete il delegato FIFA 32 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo Portogallo sbilanciato in avanti ancora un grande stacco di Fernando Couto a centrocampo poi Casiraghi Lino Baggio Mancini a cercare Casiraghi Casiraghi deve venersela ora con Vittor Paneira che è un centrocampista ma gioca in difesa Mancini ritarda il tocco viene fermato Gioao Pintoviera Domingos Baresi veloce dall'altra parte gioca il tutto per tutto il Portogallo mancano poco più di dieci minuti al novantesimo la palla la palla è per Paolo Sousa ora per Fultre fermato Albertini in combinazione con Donadoni calma dentro a cercare Roberto Baggio ferma la terra Roberto Baggio lascia correre l'arbitro c'è il rilancio di Veloso l'ottimo intervento di ben arrivo la palla è per Donadoni dribbling secco ai danni di Paolo Sousa vado a Donadoni da cittadino a Roberto Baggio da quest'altra parte a Mancini tiro di Mancini con il destro sul fondo Paolo Sousa Vittor Paneira saltato Mancini Baresi Albertini Mancini Baresi avanza Baresi viene messo giù fallo da munizione e in effetti l'arbitro ammonisce l'autore del fallo e si tracca di Domingos ammonito ora praticamente il Portogallo ha rivoluzionato tutto il suo assetto per la squadra di Queiroz bisogna provarle tutte per vincere questa partita Baresi a noi basta anche il pareggio ma quanta sofferenza fino a questo momento Albertini dentro il rinvio di Giorgio Costa il colpo di testa di Benarrivo la palla verso Casiraghi ancora Giorgio Costa Puglino Baggio Paolo Sousa centralmente Joao Pinto Baggio lo ferma e poi c'è un fallo dello stesso Roberto Baggio tutto si potrà dire ma non che questo arbitro ci abbia favorito ricordo in modo particolare al 22esimo del secondo tempo l'intervento da rigore su Casiraghi Vittor Paneira fuori gioco fuori gioco di Domingos Baresi colpo di testa di Vittor Paneira Paolo Sousa sempre nella posizione giusta l'esterno ancora per Vittor Paneira Paolo Sousa rilogiano il pressing i nostri retrocedono palla per Veloso Joao Vieira pinta c'è Donadoni su di lui palla fuori calma ci vuole calma Benarrivo ancora Benarrivo butta in profondità dove però non ci sono giocatori italiani Vittor Paneira Fernando Couto Paolo Sousa fiondata in profondità Benarrivo arresta e rilancia un pallone sul quale è pronto Dino Baggio ecco Mancini bene è pronto però Dino Baggio entra in area Baggio Roberto Baggio finca tiro Dino gol Dino Baggio al 38esimo del secondo tempo va in vantaggio di Caglia Dino Baggio ed è un gol che si fa tirare un respiro di sollievo sommerso dagli abbracci dei compagni richiede l'olazione di San Siro impietrito dall'emozione Arrigo Sacchi ecco Dino Baggio Roberto Baggio che fa sfidare il pallone va al tiro tiro che viene ribattuto ma c'è Dino che può mettere dentro a botto sicura 1-0 38esimo del secondo tempo Italia in vantaggio con Dino Baggio attenti ora ancora 7 minuti da giocare Vittor Panera destro lungo Baresi palla rimessa verso il mezzo Benarrivo fallo fallo su Albertini poi la conclusione di Domingos fermata da Benarrivo veloce per la rimessa Paolo Sosa Deloso fermato ancora Paolo Sosa grande partita la sua attenzione fuori gioco con il gioco di Futre che per me non si è visto molto giocatore più tenuto nelle file dei portobesi ora tutto San Siro in piedi a urlare il suo incitamento agli azzurri 39 minuti di gioco nel posto del secondo tempo 1-0 Mancini Vittor Panera poi Dino Baggio Casiraghi ancora Casiraghi può toccare Maldini Maldini di prima sai bene su Mancini Mancini cerca e trova Roberto Baggio da Roberto Baggio a fondo su dice Lampico recupera Mancini si lotta accadentemente Albertini Giorgio Costa Veloso ancora Albertini ha giocato benissimo Donadoni va Donadoni tiene la palla bene così cerca il fallo non interviene l'arbitro Paolo Sosa suggerimento per Joao Vieira Pinto che va via su una sinistra non disturba ancora benissimo Benarrivo e c'è comunque Angolo ha giocato assai bene anche Benarrivo mentre mi pare di poter dire che quando è in campo di Albertini la situazione è molto migliorata nella nostra squadra il foro di Sonsini a terra Joao Vieira Pinto il gioco è ancora fermo perché si prestano alle cure del caso dal giovane attaccante Joao Vieira Pinto attualmente in forza al porto prodotto comunque dalla squadra calcistica del Boa Vista in piedi Gioao Pinto anche se Zoppi che parte in tiro ad angolo il colpo di testo con il grande Fauto con il pallone fuori attenzione attenzione Merdi a fiocchi pelle Rissa Curibonda con la parte di Pagliuca Giorgio 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 Fernando Polto mette calma Pagliuca l'arbitro Albertini colpito al capo un attimo di grande emozione vedete Costa Curta che se la prende con Rui Barros si mette in mezzo anche Domingos Spintoni Giorgio Costa tutto ok calma ristabilita intanto il cronometro segna 42 minuti e 50 secondi ci sarà naturalmente qualche attimo di recupero Pagliuca Maldini Mancini Fernando Polto Paolo Sout fallazzo di Fernando Polto Rossa out Fernando Polto espulso saltano i merdi ai portoghesi Fernando Polto espulso eccolo che con la sua zazzera su ne va rivediamo vedete Casiraghi Manrovesio su Casiraghi quindi si stava avvicinando ancora a terra Casiraghi portoghesi sotto di un gol in 10 certo va detto che dispiace vedere una formazione come quella portoghese così bene organizzata esclusa dalla fase finale dei mondiali ci ha fatto soffrire molto la squadra dei Kairos stasera Albertini Mancini Maldini Breg scatta in avanti Aguas Largo Domingos sempre Domingos gran palleggiatore pallonetto fuori gioco fuori gioco di futa Donadoni scatta per quella di Benarrivo ottimi i nostri due difensori esterni ecco Benarrivo va subito al cross da quest'altra parte Casiraghi può toccare su Mancini eccolo carica questo Mancini non batte cerca un'altra soluzione cambia gioco dalla parte opposta lo favore di Donadoni Donadoni al limite dell'area sinistro alto applausi del pubblico 45 minuti di gioco entriamo nel recupero stiamo vincendo 1-0 ci basta anche il pareggio Paolo Sousa forse il migliore in campo Rui Baros Baggio Donadoni Roberto Baggio bisogna tenerla ora Casiraghi Mancini si toglie dal fuorigioco Roberto Baggio poi c'è Mancini in profondità e lo intuisce Giorgio Costa dal portiere che con i piedi da Paolo Sousa anticipo splendido di questa curva Mancini pallonetto fuorigioco fuorigioco di Casiraghi un minuto di recupero 1-0 a San Siro dell'Italia sul Portogallo Vittor Panera raggiungendo Sacchi che naturalmente è circondato dai fotografi si abbraccia Gigi Riva ecco che raggiungiamo Enrico che sta facendo il sorriso la paura la paura è stata tanta questa volta ma ce l'abbiamo fatta abbiamo fatto un buon secondo tempo prima del tempo avevamo troppa paura e allora abbiamo sofferto perché loro sono bravi e dobbiamo fare i complimenti anche a loro l'Italia è un po' tesa mi sembra al primo tempo e cosa è successo nel secondo sulle situazioni di Albertini nel secondo tempo invece non ne avevamo e allora li presevamo di più per gambi a palla la gestivamo anche di più la palla hai tenuto il peggio a un certo punto grazie il Portogallo molto nervoso alla fine ci sono state anche una mischia lì sei un pochettino se ti vuoi recuperare dici un'altra cosa Enrico siamo in America a questo punto l'atmosfera è quella quasi come una partita del mondiale siamo solo andati in America il tuo lavoro fino a questo punto ha prodotto qualcosa di buono sei soddisfatto anche se questa partita di questa sera è stata più che sofferta ringrazio sì sì sono contento in questo momento molto molto stai circondando dai fotografi un'altra cosa Enrico l'uomo migliore in campo secondo te questa sera è difficile dire uno nel secondo tempo sono stati bravi veramente tutti scusa saluto l'arbit d'accordo che va saluto l'arbit vediamo il gol di Tito Baggio il gol che ci ha tolto ogni paura sono davvero circondato vedo abbraccio a non finire perciò ti ristudisco la linea se sei d'accordo Bruno sì io sono ancora qui in postazione penso che sia già stato attivato lo studiolo nel quale ci dovrebbe essere qualche collega a meno che Marco Civoli non abbia qualche ospite nella zona VIP Marco mi senti? ti sento il presidente materrese ho visto che ha gioito ha abbracciato il presidente Ciampi allora ha detto siamo in America lo può dire impossibilissimo non andare ci andiamo l'avevo promesso agli italiani la vittoria dell'Italia di un'Italia che vuole crescere che vuole andare avanti ecco una grandissima sofferenza presidente ma bravi comunque anche i portoghesi anche se alla fine hanno perso un po' la testa comprensibile noi siamo stati avevamo avuto paura al primo tempo poi abbiamo visto che si poteva vincere ma poi una sofferenza fa bene perché vale di più la vittoria cosa l'ha detto il presidente Ciampi? ha detto che possiamo andare insieme in America il più grande abbraccio a chi va adesso? la mia madre grazie presidente a te Bruno molto bene sono ancora qui in postazione ora non so se ci sia già qualcuno nello studiolo ecco mi senti Bruno? si dimmi Gian Piero ecco che i Ross qui mi sembra giusto sentirlo perché adesso sono una partita si si senz'altro un'Italia che ha meritato di vincere come ha visto il punteggio? è un gran match un gran bel match un match io penso che il faut dire a Suisse e a Italia dire buona chance per il campionato del mondo e dire buona fortuna alla Svizzera e l'Italia per il campionato del mondo questo è molto bello e molto sportivo e noi siamo restati a Lisbonne noi resteremo a Lisbonne noi siamo dei adepti di Suisse e di Italia perché sono le rappresentanti del nostro gruppo va bene noi siamo veramente contenti che la Svizzera e l'Italia siano i rappresentanti del nostro gruppo buon chance buona fortuna grazie molto bello chiudiamo dal campo Bruno si molto bene allora adesso c'è un attimo di pubblicità ma non allontanatevi per...